La notte scorsa mi ha svegliato un rumore che non sentivo da tantissimo tempo. Non stavo proprio dormendo, mi ero messa a letto da poco tempo e sapete ero in quello stato di semi dormiveglia quando ci si sta per addormentare. A un certo punto ho sentito questo rumore che appunto, era a secoli che non lo sentivo, era l'allarme di una macchina. Sapete, quelle che fanno... L'ho ascoltato per un po', poi aspettavo che smettesse, però non smetteva, continuava, continuava, continuava. Poi ha smesso per qualche secondo, poi ha ripreso e poi ha iniziato a andare avanti a ritmo intermittente. E siccome io ero lì, con gli occhi chiusi al buio, di notte, con tutti i rumori amplificati, e questa cosa qua durava ormai da più di cinque minuti, mi sono messa a contare i secondi che trascorrevano tra un intervallo e l'altro e appunto, siccome a casa c'è molto silenzio e veniva il ticchettio dell'orologio che è appeso in cucina, erano degli intervalli di 13 secondi. E questa cosa qua è andata avanti per, boh, non so, una ventina di minuti. E mi sono resa conto di quanto fosse onnipresente negli anni 90, negli anni 80, anni 90, il rumore dell'antifurto delle auto. Quando abitavo dai miei genitori in castello, io ricordo che ogni notte c'era un antifurto che andava avanti per minuti e minuti, poi soprattutto d'estate ogni tanto si sentiva qualcuno che gridava dalle finestre, basta! Sì, poi improvvisamente antifurti non se ne sentono più. Non so se si è cambiato il modo in cui funzionano gli antifurto, antifurto oppure se, boh, non lo so, è cambiato il modo in cui la gente parcheggia le auto oppure se un tempo erano molto più sensibili per cui bastava appoggiarsi a una macchina che scattava subito l'antifurto. Però non lo so se voi ci avete fatto caso. Infatti quando la notte scorsa ho sentito l'antifurto, la mia prima sensazione mi sono ritrovata riportata indietro nel tempo, nelle notti estive appunto, quando si aveva la finestra aperta, si guardava la tv e venivano tutti i rumori dagli altri appartamenti che ancora avevano la finestra aperta. Ripeto, questo perché io abitavo in una casa del centro storico dove gli appartamenti sono tutti molto vicini, le strade molto strette e praticamente io a l'ora di pranzo facendomi alla finestra sapevo esattamente quello che stava cucinando la nostra dirimpettaia perché l'odore del soffritto dalla sua cucina entrava direttamente nel nostro soggiorno.